Alfred, Alfred, sono in casa tua, Bruce. Vain, torna a casa, devi dirgli addio. Quando avrai trasformato il tuo dolore in rabbia, allora sarai pronto ad affrontarmi. Mi verrà ancora abbastanza per le tue ultime parole, se ti sprechi. Alfred! 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 La visuale detective non va, tieni duro, Alfred! Il computer non funziona, devo ripristinare la visuale detective per poter trovare Alfred. Ecco, dovrebbe funzionare. Alfred! 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 No. Alfred, mi senti? Ti tirerò fuori da lì! Alfred! Alfred! Alfred, non puoi! Alfredo! Non mi aggiunga al fardello che porta... Alfredo! 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 No! No! Due e cinquanta carica! Libero! Libero! Forza, diavolo! A tutte le unità, codice dieci. Ripeto, codice dieci confermato a Blackgate. Il sospetto risulta essere gioco. Andrò tutto bene. So che non ho sempre appoggiato quello che fa, ma ora comprendo in pieno. Vada. Hanno bisogno di lei? Non posso difendere Gotham. Non so difendere casa mia. Signorino Bruce. A tutte le unità, ripeto, tutte le unità disponibili. Chi risponde... Signorino Bruce, ora non è il momento di dubitare. No, no. Non posso. Non posso fermarli. Ma è il momento di capire che lei è un uomo, non un'isola. E la forza di un uomo non viene solo dai muscoli e dall'intelligenza. Ma anche dai suoi fedeli alleati. Priorità uno, Joker è evaso dalla sua cella e sta conducendo alla rivolta a Blackgate. Ripeto, Joker si è impadronito di tutto il carcere. Diverse vittime, diversi ostaggi, civili e secondini. Ripeto, abbiamo perso Blackgate. Il capitano Gordon chiede assistenza. A tutti, ripeto, tutti. L'aspettano. No, hanno bisogno di noi. No, hanno bisogno di noi. No, hanno bisogno di noi. Basta perdere tempo, ammazziamoli e figliamocela da qui. E dov'è il divertimento? Ho un conto in sospeso con questo qui. Abbiamo tutti dei conti in sospeso, ma non vale la pena farsi beccare. Già, fallo smettere di soffrire. Tira quel grilletto e ti daranno le... E secondo te cosa stavo scontando, coglione? E chi vorreste intimidire? Qui, capitano Gordon. Serve qualcuno all'interno per scoprare il cancello. Ora saranno fuori! Ripeto, qui, capitano Gordon. Serve qualcuno all'interno per scoprare il cancello principale di Blackgate. Qualcuno mi sente? Vediamo come esci da questa situazione. Mi serve un'arma. Mi sembro impaurita. Questo è mio! Ora l'ammazziamo! Oh, l'aero! Grazie. Grazie, Eddie. Mi serve il vostro aiuto. Sta arrivando il capitano Gordon. Chiudete i cancelli e aiutatelo a isolare questo posto. Joker non deve poter scappare da qui. Sì, signore. Andiamo. Agente carcerario 47 a capitano James Gordon. Quanto ancora per Blackgate? Cinque minuti. Potete aprire il cancello? Saremo pronti quando arriverete. Sir, ho sentito le comunicazioni in arrivo da Blackgate. Va tutto bene? Questo dovrei chiederlo io a te. Come ti senti? Non mi capita tutti i giorni di essere riportato rossamente in vita con un defibrillatore. Devo dire che tutto considerato, sto piuttosto bene. Buono a sapersi. Se senti delle aritmie, avvertimi subito. Certamente. Ma francamente, signorino Bruce, ritengo che abbia cose più importanti a cui pensare. Perciò che abbia cose più importanti a cui pensare. Qualcosa sta mandando forti correnti elettriche nell'acqua. Devo fare attenzione. Perciò che abbia cose più importanti a cui pensare. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti